Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Chiesino Zanese e Pistoia e tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Sempre verso Firenze il traffico si sta intensificando tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 390 tra Baldichiana e Chiusi-Chianciano. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze rallentamenti per il traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandici. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!